Donetsk, Ucraina, questa è la Donbass Arena, un saluto da parte di Piero Gipardo. Protagonista del match di oggi, queste due nazionali, Stefano, scendere in campo indossando la maglia del proprio paese regala sempre stimoli ed emozioni incredibili. Giocare in nazionale il massimo traguardo al quale può ambire ogni calciatore. Capisco i timori dei club che rischiano di... Allora interessante. Occhio al tiro. Hanno scelto un approccio aggressivo al match e sono stati ripagati. Avanti dopo pochi minuti. Partenza lanciata la loro e vedremo se ora continueranno a premere sull'acceleratore per sfruttare il momento favorevole o se tireranno un po' il fiato. Segnare non è mai facile ma in questo caso la difesa ovviamente gli ha dato una grande mano. L'hanno lasciato calciare da due passi. Hanno aperto le barcature con questo gol. 1-0. Sembrava fallo ma si gioca. Via, via, via. Diop. Sahin. Occhio al suo movimento. Pallone spazzato via bene dalla difesa. Apre di testa. Attenzione al movimento dei compagni. Prova col filtrante profondo. Ture. Provano con il pressing. E l'amico deve già interrompere il gioco. Restituisce bene il pallone. Può colpire da lì. Occhio al cross. Palla sul primo palo. Palla raccolta senza problemi dal portiere. Barbosa. Ottima la lettura del difensore che ha capito tutto e ha recuperato il pallone. Per l'arbitro non è fallo questo. E dopo forse avremo modo di rivedere. Ci sono metri a disposizione. Prova la botta. Palla che viene rilanciata in avanti. Bene qui il difensore. Ha chiuso la linea di passaggio. Ha riconquistato palla. Bravi qui a bloccare tutto. Occhio al contrapiede qui. Rosi. Occhio al tiro. Il difensore è un muro su questo tiro. Intervento tempestivo del difensore che intercetta il passaggio. Allen. Non ferma il gioco l'arbitro. Ha dato il vantaggio. Si avvicina all'area. Tra un po' spazio qui per l'attaccante. Straordinario stacco di testa. C'è tutto in questo colpo di testa. Elevazione, potenza, precisione. Oh, e là là che colpo di testa. Splendido questo colpo di testa Stefano. Sì, ha impattato alla perfezione. Non ha lasciato scampo al portiere. Hanno pareggiato. Dunque, uno a uno. Touré. Huykan. C'è spazio per andare. Chiude bene il triangolo. Sahin. All'interessante dello spazio. Baragna metri. Non può sbagliare da lì. Pallone fuori di poco. Ha riuscito lo stesso a calciare, nonostante fosse pressato dal difensore. Difficile fare meglio. Un pallone filtrante. Attenzione, pericolo. Cambia dunque il risultato. Col gol del vantaggio. Adesso, ovviamente, potrebbero trovare spazi in contropiere, Stefano. E questa piera è un'analisi tattica perfetta. Condivido tutto quello che hai detto. Il punteggio adesso è di due a uno. Kramer. Punta l'area. C'è il tiro dalla distanza. La delusione sul volto per quella che potrebbe essere una buona occasione. A volte capita di sbagliare. Non deve abbattersi, secondo me. Sain. Occhio, cerca l'area di rigore. Ferma l'azione. Recupera il pallone, mettendosi sulla traiettoria giusta. Barbosa. Gelli. Guadagna metri verso l'area. Pallone interessante. Attaccante che ha provato il tocco sotto, ma senza successo. Fosse ha preteso un po' troppo da questa situazione. Voleva il gol. Il gol a defetto. Ture. Barbosa. Bravo qui il difensore che legge bene questo pallone. ha un'autostrada a disposizione. Direttore di gara. Gelli. Vantaggio che comincia a farsi importante. Due gol da recuperare ora per gli avversari. È ancora presto però per cantare vittoria. Eh, si fa dura per loro. Anche perché oltre a tentare di segnare, devono fare attenzione a non subirne altre. non facile per quanto si è visto finora. Quarto gol della gara che fissa sul 3 a 1 il puntezzo. Passaggio intercettato. Diop. Occhio al suo movimento. Intervento efficace del difensore che intercetta il lancio e recupera palla. Saranno due minuti di recupero come indica il quarto uomo. Rosi. Ha spazio per andare. Si mette col corpo tra palla e difensore. Arbitro di... 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 Comincia la seconda frazione di gara, interrompe bene l'azione intercettando il lancio, si avvicina l'area, Ture, Barbosa, Angheleri, ottima la lettura del difensore che ha capito tutto e ha recuperato il pallone. Rosi, c'è spazio per andare, punizione da una mattonella molto interessante, c'è una munizione in arrivo per lui. Mi pare che incassi di buon grado il giallo, sa che l'arbitro ha ragione. Occhio al tiro, si immola il difensore. Ultimo tocco del difensore, si ripartirà col corner. Corner battuto in mezzo, attento qui il difensore che allontana. Palla che finisce in out. Mascherano. Buono l'appoggio. Allen. Sahin. Ancora un passaggio perfetto. Allen. Punta l'area. Buona la chiusura. Si alza la bandierina. Tutto fermo, lo scatto era perfetto, forse, forse con un istante rattisimo. Aveva gustato l'occasione importante, aveva fatto conti con il guardaline. Gran palla in mezzo. Occasione d'oro. E c'è il gol. Palla in rete. Molto bella anche l'azione che ha portato al gol. Continuano a regalare grande calcio, gol e non hanno intenzione di fermarsi. Palla girata sulla corsia. Vediamo cosa decide l'ambito. quadra ospite che alza la linea di difesa. Arriva il fisco dell'arbitro. Sarà punizione. mascherano. la mette in mezzo con questo... C'è l'intervento di Pugno. Sventa qui la minaccia. Allora intercettato senza problemi. Siamo entrati nell'ultima parte di una gara che fin qui ci ha riservato davvero grandi sorprese, a cominciare dal punteggio. Non si sono lasciati condizionare dal pronostico avverso e hanno messo tutto in campo. Un vantaggio fin qui meritato. Guadagna metri verso l'area. Prova ad andare. Palla rispinta dal difensore. Toure. Uicani. Palla in fallo laterale. Intervento tempestivo del difensore che intercetta al passato. passaggio che non era certo tra i più precisi. Questo ha agevolato il suo intervento. Occhio. Cerca l'area di rigore. Occhio al cross. Angheleri. Uicani. Ha perso il pallone. Pallone che finisce in fallo laterale. Pallone che finisce in fallo laterale. Barbosa. Angheleri. Baragna metri. Recupera palla. Intercettando bene il pallone. Toure. Pallone che finisce in fallo. Palla ancora buona. 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 Azione dopo azione si stanno confermati, parte il tiro, non può sbagliare da lì, voleva sorprendere la difesa ma qui è finito in offside. Sbaglia qui il passaggio, pallone in falo laterale. Rimessa battuta male, pallone regalato agli avversari. Puntuale qui il difensore nel recupero. Ancora otto minuti prima della fine della gara. Pallone interessante, attenzione occasione! Palla ribattuta ma non è finita. Palla in mezzo dopo un buon intervento. Si avvicina la bandierina per il calcio ad angolo. Occhio al corner. Attento qui il difensore che allontana. Punta l'area. Kramer. Perde palla. Giali. Palla riconsegnata agli avversari. Il retropassaggio verso il portiere. E' un finale questo che difficilmente risponde. Pallone profondo, pericoloso. Quarto uomo esibisce la lavagna. Tre minuti di recupero. Si avvicina all'area. Punizione da una mattonella molto interessante. Occhio a questo laccio. interrompe bene l'azione intercettando il lancio e si chiude qui anche il secondo tempo hanno avuto l'inizio di stagione davvero